Amici di Unica Channel, bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo una nuova pagina dedicata al gossip. Prime anticipazioni sulla semifinale e finale di Amici 11. Venerdì 18 e maggio e sabato 19 conosceremo il vincitore della categoria Cantanti di quest'anno, il numero 1 tra i big. E tanta l'attesa per l'ancora non confermata presenza della star attuale del gossip, Belen Rodriguez, che si presenterà all'Arena di Verona insieme al suo Romeo, Stefano De Martino, che potrebbe quindi calarsi nei panni, come direbbero i napoletani, dell'eterna Giulietta. E intanto Fabrizio Corona, per risollevarsi dal dispiacere, ritorna da Nina Moric. Nessun ripensamento, si sono incontrati solo per la comunione del figlioletto Carlos. E cambiamo pagina. Ieri apertura in rosso per il 65esimo Festival di Cannes, che si porterà fino al 27 maggio 2012. Un'ovazione per il presidente della giuria, Nanni Moretti, che ha fatto la parte principale della serata. Un montaggio con spezzoni dei suoi film. Il manifesto del Festival 2012 è dedicato a Marilyn Monroe, che pur essendo un'icona del film, non ha mai percorso la cruisette. E questa era l'ultima notizia di questa edizione. Auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata.